In principio era un semplice calcolatore elettronico, una macchina in grado di immagazzinare una grande mole di informazioni, di elaborarle e di fornire risultati sotto forma di dati digitali. Oggi però con l'evoluzione tecnologica la parola computer si lega inevitabilmente al concetto di intelligenza artificiale, disciplina che studia il modo di riproduzione dei processi mentali più complessi mediante l'uso appunto di un computer. Chi sa dunque che Isaac Asimov, scrittore nato in Russia e cresciuto negli Stati Uniti, quei suoi libri di fantascienza non ci avesse visto lungo nel secolo scorso quando storie come Io Robot, sviluppate con successo dall'industria cinematografica americana, tracciarono scenari di ipotetici rovesciamenti della società, contrapponendo uomini e robot nella lotta per la sopravvivenza. Tra i pionieri dell'intelligenza artificiale si annovera Jeffrey Hinton, informatico 75enne britannico-canadese che ha recentemente annunciato le sue dimissioni da Google mettendo in guardia, in una dichiarazione rilasciata al New York Times, dai pericoli che in un futuro non troppo lontano potrebbero giungere dall'utilizzo improprio di un'intelligenza artificiale accresciuta. Ne abbiamo parlato con il professor Antonio Teti, responsabile del settore dei sistemi informatici dell'Università d'Annunzio di Chieti-Pescara. Quali sono i pro e i contro dell'applicazione nei vari settori dell'intelligenza artificiale? Diciamo che innanzitutto noi non possiamo bloccare le tecnologie, l'evoluzione delle tecnologie digitali. Certamente dobbiamo stare particolarmente attenti a come vengono utilizzate queste tecnologie. Da questo punto di vista sicuramente l'intelligenza artificiale rappresenta un traguardo indiscutibile per quanto concerne le possibilità di questa tipologia di utilizzo e di gestione delle risorse informative. Francamente ritengo che l'intelligenza artificiale possa essere un elemento di ulteriore sviluppo nel campo della ricerca, del filtraggio delle informazioni per fornire velocemente, istantaneamente le informazioni che un individuo richiede. Uno dei campi di recente applicazione dell'intelligenza artificiale è quello della chat GPT, capace di interagire con gli uomini dando risposte e creando testi, immagini, articoli di giornale e perfino poesie. Lanciata nel novembre del 2022, la piattaforma però ha sollevato una serie di polemiche circa l'utilizzo improprio della chat nel quotidiano, tanto che in molti paesi il suo uso è stato fortemente limitato. In Italia il garante si è pronunciato in questi termini, ha bloccato per un periodo temporale ridotto l'utilizzo di chat GPT per le garanzie che non venivano fornite sulla protezione dei dati, sulle informative da fornire agli utenti. Quindi dove sono i nostri dati, dove sono memorizzati, chi li gestisce e chi può farne utilizzo in maniera diversa. Ma i robot prima o poi sostituiranno davvero l'uomo? Tutto lascia pensare che ciò possa avvenire. Certamente i robot al momento sono dei dispositivi che possono consentire di, ad esempio, agevolare la gestione di alcune attività che potrebbero essere risolutive. Perché no? Anche con un'assistenza domiciliare in casa. Da questo però ad arrivare a sistemi senzienti, cioè in grado di provare le pulsioni e le emulsioni di un essere umano, dovremmo aspettare ancora parecchi anni. Al momento stiamo parlando ancora di film di fantascienza.